Firenze Smart Il nodo di allacciamento tra la FIPILI e la 12 in direzione sud provenendo da Genova In A11 Codenuscita a Montecatini provenendo da Firenze In A1 verso Roma tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio Sempre verso Roma rallentamenti per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Nord Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie